Sono dentro un reality sono, un doppio reality aspetta Non per niente ma alla fine è finita che ho dovuto prendere io la seconda valigia per mettere le cose di perla Ragazzi, è così, pazzesco Le nostre valigie, la mia è più bella Stiamo partendo No, è che in realtà devono venire anche altre persone, non siamo solo noi, cioè quindi stiamo aspettando Questa era la nostra Anita Olivieri, avete riconosciuto certamente la voce Lei pranzo incredibile di sushi, invece dall'altra parte del mondo Alessio Falzone è in vacanza a Bali Ma nonostante ciò lui si alza, questo è un posto alle 7 del mattino Per fare workout, oh mio dio Alessio ma sei un alieno per noi Mirko e perla, ciao